E' una storia molto speciale. Di cosa voleva parlarmi? Posso offrirle una storia molto speciale. E' col tuo soggetto. E di che parla? Stavolta dovrai fare almeno lo sforzo di leggerlo. Vieni fuori, ce la amiamo! Ce la amiamo! Pensavo che come al solito sarebbe andata liscia. Tu ci metti la faccia e io la storia. Le conviene dirci tutto subito. La storia del linguaggio è vera. Da chi l'ha saputa, Pess? Se vuole scrivere questa storia, lei deve restare nell'ombra. Sono arrivate stanotte dalla sua mail e lui è in coma da tre giorni. Hai mai sentito parlare della natività di Caravaggio? I mafiosi l'hanno rubato cinquanta anni fa a un oratore di Palermo. Questo mister X, tu l'hai mai visto? Il nostro problema è un altro. Che conosce l'altra parte della storia, quella che non è ancora avvenuta. Non ho mai lasciato una storia a metà. Questa storia è diventata troppo pericolosa. Ne troverai sicuramente una migliore. Posso benissimo andare avanti da sola. Il titolo darebbe alla sua storia. La storia è diventata troppo pericolosa. La storia è diventata troppo pericolosa. E la storia è diventata troppo pericolosa. Oggi lo akem alla dai pericolosa.